E' una scoperta davvero straordinaria quella che di recente c'è stata a Pompei, precisamente negli scavi di Regione Campania. Infatti è stata scoperta una tomba che va a custodire ancora oggi, siamo all'agosto del 2021, un corpo semi-mumificato. Non si era mai vista una cosa prima del genere, prima di questo momento. Mi ricordo che la dicitura, la lastra marmorea posta di fronte, riporta come il nome Marcus Benerius II e richiama lo svoluccemento a Pompei di spettacoli proprio greici, lingua greca, che mai sono stati attestati prima in maniera diretta. Ci troviamo al parco archeologico di Pompei, c'è stato questo ritrovamento importante, fondamentale. E' lo stesso ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, ha applaudito completamente, definendo il tutto come l'orgoglio d'Italia. Insomma, è qualcosa di straordinario, qualcosa di incredibile. Strano che la persona morta non si sia fatta incenerire, quindi non sia stata cremata, ma sia stata semplicemente innuata. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi al canale, narra di italiano, commentate. Ciao a tutti, Dario Andro, narra di italiano.